Controlli capillari da parte delle forze dell'ordine, oggi la patuglie dei carabinieri e dei vigili urbani sono state disseminate in tutto il territorio comunale al fine di scongiurare il perpetrarsi di reati. Per i militari dell'arma l'attività è stata promossa dal comandante Maggiore Valerio Marra e coordinata dal comandante del Nucleo Operativo e Radio Mobile, tenente Francesco Ferrante. Abbiamo organizzato una serie di controlli lungo le strade della città e in particolare davanti agli istituti scolastici anche durante l'orario sia di entrata che di uscita degli studenti da scuola unitamente alla Polizia Municipale di Gela. È un'attività che mira a salvaguardare le vite umane, quindi le giovani vite e a contravvenzionare tutti quei comportamenti soprattutto il mancato uso del casco protettivo. Sono controlli diurni e notturni? Sono controlli anche che vengono svolti di notte, noi sabato sera ne abbiamo svolto uno importante nella zona di Piazza Salandra, di Via Rossini, in tutte le strade del centro storico, anche di Piazza Roma e abbiamo contravvenzionato non solo diversi giovani, ma alcuni di loro sono stati segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo, ovvero alla Prefettura di Caltanissetta, per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono controlli che abbiamo anche effettuato con l'uso degli nostri apparati etilometrici volti appunto a infrenare il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Quale c'è il fenomeno dei ragazzi che invece sono in sella al proprio motorino, che non indossano il casco? Beh, intanto loro rispondono sicuramente di una contravvenzione al codice della strada, come ho detto prima e ricordiamo che è anche la causa di molti incidenti stradali, anche mortali, le cui conseguenze appunto vengono accentuate dal mancato uso del casco protettivo, che ricordo a tutti deve essere anche allacciato e deve essere di tipo omologato. Numerosi casi di auto fermate senza la regolare copertura assicurativa. Questo avviene purtroppo abbastanza spesso. Noi oggi abbiamo la possibilità, attraverso un sistema speditivo che ci consente il Ministero dei Rasporti e delle Infrastrutture, di accertare in tempo reale, nel giro di pochissimi secondi se un'auto è sprovvista dalla copertura assicurativa e anche dalla prevista revisione. È un controllo che viene fatto in maniera molto rapida attraverso un collegamento alla nostra centrale operativa. Nel giro di pochi secondi noi riusciamo a stabilire queste due cose contemporaneamente. Quindi invito anche gli automobilisti soprattutto a dotarsi di copertura assicurativa e a portare la loro auto a revisione.